Molte salate gli esercenti di piazza Salotto, a loro carico la colpa di non aver comunicato l'ampliamento dell'area delle attività di somministrazione. Si parla di bar e di occupazione di suolo pubblico, una denuncia che ora mobilita i 5 Stelle per far luce su normative, regolamenti e contraddizioni del caso. Si è richiesto anche una commissione commercio per chiarire e spiegare questa vicenda, perché sono state applicate e notificate delle sanzioni per una violazione rispetto a una legge regionale. Si dice che si sono sanzionati gli esercenti perché non avrebbero comunicato l'ampliamento di superficie delle attività di somministrazione, però c'è un cortocircuito perché queste stesse aree esterne che non avrebbero comunicato sono in realtà autorizzate regolarmente, quindi conosciute, dal Comune stesso che invece ne richiede la comunicazione. Chiediamo anche se sono stati rispettati quegli obblighi di trasparenza, per cui un cittadino è messo in condizioni di sapere qual è l'iter che deve seguire per poter pagare gli obblighi che sono richiesti. In più chiediamo anche un altro elemento perché abbiamo rintracciato una risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico che invece fa un'interpretazione totalmente diversa dal Comune e sostiene che le aree esterne non sono riferibili a un ampliamento della superficie delle attività di somministrazione che riguarderebbe invece soltanto i locali, quindi la struttura nell'accezione del termine e quindi tali aree esterne non dovrebbero essere comunicate e quindi decade la base e la motivazione di queste sanzioni altissime di oltre migliaia di euro.